ben ritrovati amici di the wine channel io sono francesco e oggi parleremo di vini licorosi e fortificati nuova puntata dedicata ai vini speciali e in particolar modo ai vini licorosi e fortificati se nella scorsa puntata abbiamo visto una panoramica su come vengono prodotti e come nascono questi vini oggi e nelle puntate successive andremo a vedere più nel dettaglio i più famosi fortificati e le loro caratteristiche principali il nostro viaggio parte dall'italia e quindi andiamo a conoscere oggi il marsala che prende il suo nome dall'omonima località siciliana qui verso la fine del 1700 gli inglesi erano soliti fare rifornimenti durante le traversate del mediterraneo ed è proprio in una in una di queste operazioni di recupero di cibo e vetovaglie che john woodhouse un commerciante inglese ebbe modo di assaggiare alcuni vini locali che avevano delle caratteristiche molto simili rispetto ai vini spagnoli e portoghesi che erano molto in voga in quel momento in inghilterra il nostro john quindi cosa decise di fare decise di prendere alcune botti di questi vini che erano invecchiate in legno di rovere aggiungere dell'acquavite per mantenerle il più possibile inalterate le caratteristiche ed ecco che appunto abbiamo il nostro marsala il vino così prodotto e portato in inghilterra ebbe un buon successo e addirittura venne paragonato ai più rinomati vini portoghesi o spagnoli fortificati dell'epoca che appunto riscutevano riscutevano grande successo ed erano di gran moda in terra inglese ma al netto magari di fatti che a volte potrebbero anche rasentare quasi l'aneddoto e magari a volte potrebbero non essere del tutto veritieri ahimè la storia molto spesso non ha dei documenti certi sicuramente c'è l'intuizione di woodhouse nell'aver trovato un vino che fosse particolarmente adatto quindi un vino base particolarmente adatto ad essere fortificato proprio per le caratteristiche del territorio e del clima e che c'erano appunto dietro la produzione di questo vino base basta solo sottolineare che appunto come caratteristiche la sicilia ha un clima sicuramente vicino a quello delle zone magari del sud della spagna o delle zone portoghese dove venivano prodotti già altre tipologie di vini fortificati john woodhouse ma soprattutto comunque tutti i primi inglesi che andarono a produrre queste tipologie di vino in sicilia utilizzarono fin da principio il metodo solera che era già utilizzato ad esempio per i vini portoghesi e spagnoli e questo arrivò a far produrre per il marsana quantitativi molto rilevanti soprattutto nel periodo che andrà tra la metà dell'ottocento fino a circa metà novecento quindi fin verso la fine della seconda guerra mondiale e conoscendo quindi qui il periodo di massimo utilizzo e fama come piccolo aneddoto vi posso citare il fatto che nella razione di guerra dei marinai inglesi era nella seconda guerra mondiale era sempre presente una bottiglietta di marsala quindi questo per farvi capire quanto questo vino incontrasse il gusto soprattutto appunto in terra inglese e va inoltre ricordato anche un'altra diciamo intuizione che ebbero i produttori di questo vino cioè quella di anticipare a chi alle cantine oppure contadini che producevano il vino base i soldi quindi i capitali che servivano per portare avanti l'annata agricola in questa maniera loro anticipando queste somme che poi avrebbero recuperato con la vendita del vino permettevano per me questo permetteva appunto di avere sempre un vino base curato e quindi anche di contribuire all'economia locale sostenendo i produttori di uva e quindi di vino base chi possiamo ricordare tra i produttori più celebri di marsala beh oltre a woodhouse stesso anche gli inglesi ingham e whitaker ma anche l'italiano florio che diciamo fu il primo a mettersi in concorrenza diciamo interna con gli inglesi e di fatto poi è diventato probabilmente il maggior produttore anche il marchio più ricordato comunque uno dei primi che viene in mente parlando di marsala in questo diciamo che la vita del marsala in termini di fama ha subito molti alti e bassi se appunto era una bevanda emergente fin verso la gli inizi del 1900 ecco che con i primi anni del novecento ebbe una sorta di battuta dal resto perché perché molti molti produttori cominciarono a produrre dei vini fortificati chiamandoli marsala anche se di marsala non ne avevano le caratteristiche quindi prodotti ma anche volte di bassa qualità magari anche un basso prezzo che sfruttavano solo il nome sulle dell'etichetta appunto la denominazione marsala per vendere e poi vi fu una leggera ripresa fra diciamo le due guerre fin dopo la seconda guerra mondiale fino ad arrivare oggi ad essere forse un vino un po dimenticato in quanto è passato dalla sua dimensione di vino a tutto pasto a quella più legata al mondo culinario quindi di preparazione in cucina oppure come vino da fine pasto o da meditazione proprio il diciamo l'utilizzo in proprio del nome marsala che è stato fatto fra soprattutto agli inizi del novecento valse a questo vino una delle prime leggi di tutela di della denominazione più precisamente una legge del 15 ottobre del 1931 che andava a tutelare soprattutto la sua zona di origine però la vera e propria tutela diciamo riconosciuta dalla legge deriva dalla denominazione di origine controllata del 1969 il cui disciplinare però poi è stato rivisto più recentemente nel 1984 e dalla legge dell'84 emergono inoltre le principali diciamo tipologie di marsala che ad oggi volendo fare una diciamo sommaria distinzione sono due il marsala vergine e il marsala conciato il marsala vergine è un vino prodotto da sole uve a bacca bianca con aggiunta di alcol o acquavite che invecchia per cinque anni in botti di rovere negli attuali diciamo mondo del del marsala si è abbandonato il metodo solera per orientarsi invece nell'invecchiamento concentrandosi sull'invecchiamento in botti di rovere il marsala vergine proprio con questo invecchiamento di cinque anni assume questa appunto denominazione di marsala vergine se si vuole avere la menzione riserva bisogna arrivare a dieci anni di invecchiamento quindi è un vino che comunque subisce un invecchiamento non non piccolo quindi a un lungo periodo di invecchiamento il marsala conciato invece è sempre un vino al quale può venire addizionato etanolo mostocotto missella a seconda dell'invecchiamento abbiamo tre tipologie principali di marsala il marsala fine quello che ha un anno di invecchiamento il marsala superiore due anni di invecchiamento il marsala superiore riserva quattro anni di invecchiamento inoltre per ogni tipologia esistono anche tre denominazioni a seconda del colore avremo il marsala oro che è utili che ha lui prevede l'utilizzo di uve a bacca bianca senza aggiunta di mosto cotto avremo il marsala ambra dove vi è una sempre l'utilizzo di uve a bacca bianca ma è consentita l'aggiunto l'aggiunta di mosto cotto superiore all'un per cento e infine avremo il mosto rubino meglio scusatemi il marsala rubino dove si possono utilizzare in questo caso anche per il vino base uve a bacca nera con un'aggiunta massima di un 30 per cento di uve a bacca bianca ma senza aggiunta di mosto cotto quindi qui appunto anche il i tre colori richiamano poi anche quello che si vede come prodotto finale come colore all'interno della bottiglia proprio perché a seconda dell'uva o dell'aggiunto meno del mosto cotto che viene fatta si ottengono delle sfumature più o meno più chiare oro più ambrate ambra oppure più rubino perché prende il rosso dovuto all'utilizzo di vino base con uva a bacca nera infine abbiamo un'ulteriore suddivisione sempre del mosto del nostro marsala conciato veri che deriva dalla dolcezza fin dal grado di dolcezza finale del del vino quindi avremo il secco quando abbiamo un residuo di minore a 40 grammi litro come residuo zuccherino semi secco tra i 40 e 100 grammi litro e infine dolce sopra i 100 grammi litro ecco e qui forse si apre un po una parentesi su questo su questo vino perché se vi fate un po due conti e vedete tutte le combinazioni possibili arriviamo fino a 29 tipologie diverse di marsala le due vergine che abbiamo visto e vino a 29 eventi quindi 29 quindi mancano 27 quindi 27 tipologie diverse di conciato perché perché il conciato nelle tre menzioni quindi come abbiamo detto fine superiore superiore riserva può essere di tutti e tre i colori e di tutti e tre i gradi di dolcezza e quindi abbiamo 27 tipi di conciati ecco che quindi probabilmente un consumatore o anche un appassionato potrebbe trovarsi un po disorientato perché leggere sullo stesso nome marsala ma trovarsi di fronte a prodotti con anche caratteristiche organolettiche e sapori completamente diversi può insomma far dubitare o comunque potrebbe non far rendere ben conto della complessità di questo prodotto per voler fare un minimo di chiarezza potremmo dire che il marsala vergine è quello più vicino all'idea iniziale quindi a quello che john woodhouse diciamo intuì a suo tempo quando scelse questo a terra per produrre questo vino fortificato infatti inizialmente c'era anche l'utilizzo del metodo solera che poi è stato abbandonato però resta il fatto che il vino come avevamo visto all'inizio è invecchiato nelle botti di rovere e oltretutto invecchiato per lunghi periodi invece il i conciati sono più figli chiamiamoli così successivi volti magari a ad accontentare delle un pubblico più vasto quindi a raccogliere più sfumature in modo che questo vino ottenesse anche un diciamo un gusto e anche una possibilità di vendita maggiore rispetto al vergine iniziale e soprattutto va considerato che oggi il vino il vino marsala soprattutto il marsala fine al suo più stragrande utilizzo nel nella cucina quindi è solitamente usato per la preparazione di piatti di cucina e e quindi è di fatto di tutti marsala quello più venduto ecco che quindi come potete capire vi è una grande varietà una grande storia un sali e scendi di popolarità nel tempo che probabilmente andrebbe un po riscoperto e magari aiutato con un man che a livello forse regolamentare si potrebbe ipotizzare che ne so anche la l'idea di creare una sorta di dominazione marsala classico per magari tutelare maggiormente il marsala vergine e anche cercare di dare un po più di lustro a questo vino che di fatto oggi probabilmente se avete avuto modo di andare anche nelle scaffali di un supermercato o magari in enoteca è un po relegato in un un po in un angolo e molto spesso appunto percepito più come un vino da cucina che non come un vino con una storia appunto e anche una capacità di poter essere degustato anche in altri contesti bene direi che sul marsala abbiamo detto parecchie cose però come sempre se avete qualche altro dubbio qualche domanda qualche perplessità o volete chiedere qualche chiarimento su qualche passaggio che non vi è magari magari non ho descritto in maniera più puntuale qui sotto nei commenti con l'hashtag ask the wine potete farmi tutte le domande che desiderate come sempre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto mettete mi piace cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite e dopo avervi ricordato che i minori di 18 anni non devono bere e che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose per oggi vi saluto e ci vediamo ad una prossima puntata qui su the wine channel un ciao da francesco ciao 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 ciao